accurata e responsabile. Veniamo adesso ai provvedimenti, alle domande che arrivano incessanti sulla pagina Migliosindaco, ma anche al telefono, questi soldi dei buoni spesa che sono stati stanziati dal governo. Tra l'altro non l'intero importo, ancora quello di 494.776,66 è stato accreditato, ma soltanto una parte, ma questo è elemento di piccolo dettaglio. Sono al momento arrivate, il report di qualche minuto fa mi racconta di 900 domande all'incirca che sono arrivate sia sul portale sia telefonicamente. Credo che sono numeri destinati a crescere nelle prossime ore. Quindi ci troveremo con una platea di persone che richiedono il servizio che sarà molto ampio. Naturalmente questo che cosa prevede? lo dico a quelli che mi chiamano e mi dico sindaco quando venga a pigliare i soldi, i soldi non devi pigliare, perché dobbiamo fare l'istruttoria, perché adesso una volta che chiuderemo il cerchio e penso nelle prossime ore, massimo nei prossimi giorni, bisognerà fare da parte degli uffici un'attività istruttoria per vedere chi ci ha diritto e chi no. Chi può campare autonomamente senza attingere a queste provvidenze e chi invece ne ha assoluta necessità, perché purtroppo nonostante che si sia raccomandato nel prossimo collegamento a coloro i quali avevano altre provvidenze di non fare domanda, purtroppo le domande fioccano e quindi vanno controllate, perché noi dobbiamo aiutare chi in questo momento ha realmente bisogno, perché quella misura ha come finalità dare sostegno a chi non può mangiare, a chi non ha la possibilità dignitosamente di mettere un piatto in tavola. Allora bisogna essere seri, responsabili e bisogna fare le cose con oculatezza. Questo contempla e prevede che dovete essere un attimo pazienti, non dovete essere insistenti nel chiedere quando vengo, dove vengo, quando mi dai? Un attimo. Chiudiamo il cerchio di queste domande, dopodiché si fa questa istruttoria. Come intendiamo procedere? Per coloro i quali in questo momento sono costretti in casa, perché in quarantena, perché in isolamento fiduciario, perché sono positivi, comunque non possono uscire, per questi è evidente che si attiverà un servizio di consegna a domicilio di pacchi alimentari. Non abbiamo altre soluzioni, ma parliamo di una platea di qualche centinaia di persone al momento. Speriamo che non cresca. Quindi una platea gestibile con il supporto delle associazioni che in questo momento ci stanno aiutando. Alla fine farò i miei ringraziamenti, i miei plausi a tutte le associazioni che in questo momento si stanno mettendo in campo. Quindi per loro verrà portato il pacco. Per gli altri invece, cioè coloro i quali sono indigenti, come dicevo prima, non bon mania, non possono mettere il piatto in tavola, ma non sono costretti in casa, per loro il meccanismo che si attiverà sarà quello del buono spesa. Si sta riflettendo anche sull'opportunità di accreditare la somma aspettante con la ricarica su tessera sanitaria, che è il metodo più veloce e il metodo anche che ci evita spostamenti nell'ambito della città. Come ci stiamo regolando per quanto riguarda la quantificazione della providenza? Diciamo che per il capo famiglia è previsto 20 euro, per gli altri membri della famiglia sono previsti 10 euro. Allora se io sono un cittadino single che non ho moglie avrò 20 euro a settimana, sono importi settimanali, 20 euro a settimana, quindi 80 euro al mese. Se sono un single, se sono un soggetto sposato con una moglie, per me in quanto capo famiglia ci saranno 20 euro, per mia moglie 10 euro, per un totale di 30 euro alla settimana, cioè 120 euro al mese. Questi importi vanno ad aumentare per ogni figlio, quindi se io ho un figlio, 20 euro io che sono il capo famiglia, 10 euro mia moglie e 10 euro mio figlio, totale 40 euro, mensili 160. Se ho due figli, quell'importo aumenta di 10 euro a settimana e 40 euro al mese. Naturalmente è previsto un tetto massimo che sono 80 euro a settimana, quindi se io sono uno che ha 10 figli, arrivo a 80 e mi fermo. Quindi quello è il tetto massimo che non può essere travalicato. Quindi 80 euro a settimana per 4 settimane, quindi in un mese, totalizzano 320 euro. Penso che il meccanismo sia equo e sia giusto, perché è poi giusto aiutare le famiglie che sono maggiormente numerose. Nelle prossime ore i servizi sociali pubblicheranno un avviso pubblico, perché in questo momento vogliamo che tutte e tutte le attività commerciali di Sansevero si convenzionino con la rete di distribuzione dei buoni spese. Questo lo facciamo innanzitutto perché è giusto che lavorino un po' tutti, ma è giusto anche perché questa platea di mille rotte persone, quella che sarà poi vedremo al termine di questa istruttoria, non la possiamo concentrare in due barra tre attività, perché creiamo assembramento, perché creiamo raduno di persone, cioè andiamo a favorire, a generare situazioni che invece vogliamo evitare se vogliamo rallentare il contagio, se vogliamo vincere questo maledetto virus. E allora dobbiamo spalmare la platea dei beneficiari tra tutte le attività commerciali. Nelle prossime ore, quindi, le attività commerciali che sono interessate vi sarà questo avviso, possono rispondere, è un avviso in cui bisognerà rispondere in 48 ore. Entro 48 ore bisognerà rispondere e mettersi a disposizione per convenzionarsi con questa rete e sarà anche poi il tempo necessario per poter fare l'istruttoria, quindi mentre gli uffici fanno l'attività istruttoria si attiva questo meccanismo di messa a disposizione per le attività commerciali e quindi i tempi vanno a coincidere e io mi auguro che quanto prima si possa attivare il servizio. Però per quanto prima e sollecito possa essere questa attività, è chiaro che si parlerà di qualche giorno. Quindi a tutti dico che bisogna essere pazienti, bisogna essere un attimino tranquilli, non ci bombardate di telefonate ogni 5 minuti per sapere dove dovete andare a prendere i soldi e come si fa. Intanto fate la domanda, chi ritiene di fare la domanda la facesse. Rinnovo la raccomandazione, chi può mangiare non la facesse la domanda perché comunque non verrà accolta e quindi è tempo sprecato, anzi va soltanto a rendere più pesante, più macchinoso il lavoro degli uffici. Faccia la domanda, chi ha realmente bisogno, chi senza questo beneficio non riesce a mangiare. Questo importo destinato al governo, che in parte ci è arrivato ma non totalmente, dovrebbe nelle prossime ore, secondo quelli che sono i rumors fondati, perché lo ha detto il presidente Emiliano ufficialmente, dovrebbero vedere un'ulteriore contribuzione di Regione Puglia a beneficio di tutti i comuni pugliesi di 11 milioni e mezzo. Stando una prima bozza di ripartizione di questo importo, al nostro comune, al comune di Sansevero, dovrebbero essere destinati 160 mila euro. La delibera di giunta regionale non ancora è stata adottata, ma al momento, da quello che trapela, pare che sia in atto una discussione per capire se debba essere destinato a acquisto di generi alimentari, quindi pacchi spesa, buoni spesa, oppure se debba essere destinato a far fronte alle utenze. Perché l'altro problema che le famiglie avranno tra qualche tempo, famiglie che non lavorano, famiglie disagiate, che vivono in uno stato di assoluta indigenza, sarà anche quello di pagare le bollette. Allora qualcuno politicamente sta ponendo il tema, questo finanziamento gli fa mangiare il governo, anche se non so per quanto tempo dureranno quegli importi. Però al di là di questo, il governo gli fa mangiare, la Regione gli paga le bollette. Questo è un ragionamento in soldoni che si sta sviluppando a livello regionale. Vedremo il deliberato della giunta regionale, vedremo quali saranno gli intendimenti che l'amministrazione regionale metterà in campo. Naturalmente, come è comune, noi siamo in procinto anche noi di mettere soldi, fondi nostri propri nel bilancio. Quindi è in discussione tra di noi, con l'ufficio di ragioneria, di trovare nelle pieghe del bilancio un importo, la cui entità non sono ancora con certezza in grado di dirvi, ma non appena avremo contezza precisa di questo importo, che potrebbe essere, da quello che mi dicono gli uffici di finanziari, intorno ai 100 mila sull'immediato, noi lo andremo a destinare in aggiunta ai fondi del Governo e della Regione. Naturalmente, in questo momento, questi fondi, che non ci consentiranno di assistere tutti in eterno, prevedono che maggiore la disponibilità finanziaria, maggiore sarà la possibilità nel tempo di aiutare le persone. Quindi sarà attivato un conto corrente, intestato al Comune di Sansevero, in cui i cittadini di Sansevero potranno mettere, far confluire le somme che ritengono, naturalmente indicando nella causale del versamento donazione per solidarietà alimentare. Ma questi sono ragionamenti che stiamo sviluppando, che costituiranno oggetto di un deliberato, credo, nella giornata di domani, che ho convocato la giunta comunale, in cui ci dovrebbe essere questo ulteriore stanziamento comunale in aggiunta a quello governativo e regionale, in più l'accensione di questo conto corrente su cui far confluire importi da parte dei singoli cittadini. Le raccolte spontanee.